ciao amici bentornati nella seconda parte di cosa fare e non fare su Genshin Impact questo video è uscito settimana scorsa e vi è piaciuto un botto ho visto un sacco di commenti un sacco di interazione tanti di voi hanno partecipato attivamente dando anche loro una loro idea su quali fossero le tip fondamentali per aiutare un beginner o qualcuno che comunque ancora è all'inizio della sua esperienza su Genshin Impact quindi innanzitutto io vi ringrazio da morire per il supporto sotto al video è stato veramente numeroso e questo mi ha fatto molto molto piacere e vi ringrazio anche per i suggerimenti che avete dato perché alcuni di quelli che avete dato sotto al video saranno in questo video qui proprio per renderli ufficiali anche sul canale quindi grazie ancora davvero a tutti quelli che hanno partecipato ai commenti e ovviamente sfruttate questo video per dare altri commenti ancora così vediamo se riusciamo a incastrarci addirittura una parte 3 adanzitutto io adesso vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per sapere quando saranno i prossimi video sia a tema Genshin che degli altri giochi e adesso ci lanciamo con la seconda parte di cosa fare e non fare su Genshin Impact consiglio numero uno o sei se avete già visto la prima parte di questa serie di video che si chiama cosa fare o non fare su Genshin Impact questo consiglio si basa sul team come ben sapete se già giocate a Genshin o come scoprirete se inizierete a giocare a breve il team di personaggi con cui esplorate Teyvat il mondo di Genshin è costituito da quattro individui differenti quindi avete quattro personaggi potete anche tenerne uno solo in squadra se vi piace però diciamo per comodità meglio averne quattro ad ogni modo è fatto da quattro personaggi che potete cambiare intercambiare switchare in qualsiasi momento del gioco il che vi permette comunque di avere un tipo di di gioco estremamente versatile dato che potete cambiarli esclusi alcune casi particolari come prima di entrare in un domain in cui selezionate un team e mantenete quel team per tutto il domain ad ogni modo cosa vi consiglio in primo luogo se giocate da poco concentratevi su quattro personaggi per farvi un team solido ma non focussatevi solo su quattro personaggi i contenuti di gioco sono numerosi e vi richiederanno di avere un numero elevato di personaggi per sfruttarli sia in determinati eventi ma soprattutto nella temotissima spiral abyss il contenuto diciamo più complicato almeno per il momento del gioco perché appunto presenta una serie di piani con difficoltà sempre crescente che metterà alla prova qualsiasi tipologia di giocatore da quello standard che ha appena iniziato al giocatore ormai in endgame che vuole fare tutte le spiral con il massimo di stelle consentite per dire anche questa spiral me la sono portata a casa al cento per cento è anche utile perché comunque i piani della spiral la prima volta che li completate vi danno delle prime agents ma poi i piani 9 10 11 e 12 che si rifresciano ogni quattordici giorni se non sbaglio circa ogni due settimane vi danno ogni volta che li completate 50 50 50 50 50 50 e così via per un totale di 600 prime agents spiral direi che ne vale la pena ragazzi quindi il mio primo consiglio di oggi è buildate più personaggi che potete ovviamente all'inizio quattro personaggi vanno benissimo per i primi contenuti di gioco boss e tutto quello che vi serve tuttavia tenete di conto che non si può parlare nemmeno di mid game se non si inizia già a buildare il secondo team e considerato comunque che in gioco ci sono una totalità per il momento di sei elementi ma prima o poi arriverà anche il settimo l'elemento d'endro è necessario avere almeno un pg per elemento ma anche di più anche perché ci sono tipologie di pg differenti che utilizzano armi differenti eccetera quindi mi raccomando ragazzi non concentratevi solo su quattro personaggi ho maggior ragione non concentratevi solo su uno non portate il vostro primo 5 stelle al livello 90 e lasciate il resto del team al 50 cercate di bilanciarli fateli scalare insieme e vedrete che il gameplay risulterà molto più semplice che avere un singolo personaggio a livello alto e gli altri a livello molto inferiore consiglio numero 2 questo consiglio è estremamente correlato al precedente perché anche in questo caso ci concentriamo sul team questo consiglio è su come mettere i personaggi in un determinato team purtroppo anche io a inizio gioco mi sono concentrata nel mettere quattro personaggi di elementi differenti nel team perché ragionavo nell'ottica dell'avere tante reazioni alimentari in contemporanea per fare sì che ci fosse poi un susseguito delle skill che mi generasse tante reazioni mentali differenti per fare più danni tuttavia è un errore che molti commettono perché bisogna stare molto attenti perché se voi mettete due personaggi dello stesso elemento nel solito team ottenete dei buff quindi dei potenziamenti per l'intera squadra per vedere questi potenziamenti quali sono per determinati tipi di elementi bisogna andare nella sezione party setup e selezionare elemental resonance vi saperà un menu in cui vi mostra se mettete due personaggi geo insieme due personaggi anemo che cosa succede un esempio che posso farvi che è quel primo che ho imparato anche io è quello dei personaggi anemo due anemo in team per esempio una gin e un venti vi danno tre buff che avete su tutto il team che sono innanzitutto un 15 per cento di riduzione della stamina del consumo della stamina poi un 10 per cento di riduzione della movement speed quindi della velocità di movimento e un 5 per cento di riduzione del cooldown delle skill che è la tempistica che vi permette di ricaricare le skill quindi capite che sono dei potenziamenti interessanti di conseguenza vi consiglio assolutamente di leggerveli per buildare il team a meglio ad ogni modo se poi vi fa piacere e me lo fate sapere nei commenti le tratteremo tutti in un video apposito in cui parleremo delle elementi al resonance consiglio numero 3 il consiglio numero 3 riguarda la serenity tipot che è stata introdotta nella patch 1.5 e che ha portato un'area di freschezza in genshin mettendo anche una dinamica un pochino più chill che ricorda un po' lo stile animal crossing barra dei sims questa casetta che però sembra soltanto una casa delle bambole in cui posizionare personaggi e lasciare animaletti ed addobbarla ha anche un'utilità ed è per questo che io vi consiglio assolutamente di non sottovalutarla poiché aumentando il trust rank e quindi salendo nel livello di tipot sbloccherete della ricompensa una delle più importanti è la ricompensa che sblocca al trust rank numero 6 ed è la ricompensa che riguarda una transient resin che cos'è una transient resin è una resina che corrisponde a 60 original resins che praticamente ha una durata di solo una settimana nel momento in cui voi la prendete nello shop avete una settimana per consumarla dopodiché questo oggetto scompare quindi è una meccanica un po' particolare perché è a tempo quindi dovete ricordarvi quando l'avete presa di usarla nel giro di una settimana ma dubito fortemente ve ne dimenticherete visto che siamo tutti alla ricerca costantemente di resina e per farmare però è una meccanica che vi permette di avere 60 original resins in più da poter utilizzare in un qualsiasi contenuto di gioco e dato comunque che siamo sempre a lamentarci che ci va anche ad essere la resina per farmare questo è un ottimo occasione per avere appanto le 60 original resins la si può ottenere una alla settimana e costa 1200 punti che si ottengono semplicemente aumentando il trust rank della tipot e aspettando perché c'è un calderone con cui i nostri soldi si accumulano maggiore il trust rank della tipot maggiore la quantità di soldi che si accumulano al minuto quindi vi conviene apparla il prima possibile e non c'è solo questa ricompensa ma vi elenco questa che è la più importante ad ogni modo non sottovalutate la tipot può essere magari un contenuto leggermente più noioso rispetto a una teamfight in un qualsiasi boss o domain ma vi assicuro che comunque è qualcosa che dà quel qualcosa in più al gioco soprattutto vi dà delle ricompense che poi vi servono per farmare consiglio numero 4 il consiglio numero 4 riguarda il parametric transformer che è un oggetto che magari non tutti conoscono che si ottiene con una world quest che è la tianku treasure trail e praticamente una volta ottenuto questo oggetto potete interagirci piazzarlo dopodiché dovete selezionare 150 materiali fra quelli che possedete di qualsiasi tipo alimenti rocce e potrete darli scambiarli in cambio di una run con questo parametric transformer che dovete colpire con degli attacchi elementali al 100% del caricamento del parametric transformer potete ottenere tutta una serie di ricompense come libri viola libri blu materiali di ascensione per le armi e anche frammenti per l'ascensione dei personaggi dei vari elementi oltre a della mora e anche altre ricompense si può utilizzare una volta a settimana dopodiché parte un countdown fino alla settimana successiva in cui sarà di nuovo riutilizzabile quindi vi consiglio assolutamente di svolgere questa quest e così ottenerlo può sembrare una cavolata ma ogni settimana qualche libro in più dell'amore in più dei frammenti sono veramente utili quindi mi raccomando non perdetevi il parametric transformer consiglio numero 5 il consiglio numero 5 riguarda l'applicazione oio lab è un'applicazione ufficiale di mio io una volta scaricata logati con i vostri dati di accesso del vostro account Genshin tranquilli è ufficiale di mio io e funziona in questo modo si divide in due sezioni una sezione che funziona più come un social nel quale avendo un username potete seguire gli altri se volete seguirmi mi trovate come Minishmaui e potete anche interagire facendo commenti postando foto video e tante altre cose a tema Genshin l'altra sezione invece si basa proprio sul vostro gameplay ci sono delle guide e anche delle agevolazioni in gioco c'è una sezione che si chiama check in ogni giorno potete loggare in questa sezione e cliccando la ricompensa del giorno in cui siete otterrete delle ricompense in gioco che possono essere cibo mora libri viola o addirittura venti prime chance qualche giorno che possono non sembrare nulla ma un login giornaliero alla fine a fine del mese avete raccimolato un bel po di cosicce poi c'è una sezione che si chiama battle chronicle che tiene conto dei vostri progressi nello spiral abyss i vostri team quante stelle avete fatto dimostra quali sono i personaggi più utilizzate il livello che hanno e anche le armi che indossano e oltre a questo vi dice anche a che punto siete dell'esploration delle varie regioni di Teivat quindi a che percentuale siete con la world exploration di Nazuma di monstad di l'UE eccetera eccetera poi c'è una sezione che si chiama official notification nella quale vengono mostrati tutte le novità per quanto riguardano banner pg nuove patch e nuovi eventi c'è un'altra sezione che si chiama Teivat interactive map che è una mappa interattiva che vi permette se state per esempio cercando di buildare venti e per ascenderlo vi servono i cesilia che sono i fiori per l'ascensione di venti di individuare il punto in cui sono sulla mappa così che sapete direttamente in che regione di monstad a dare senza girovagare a destra e sinistra senza sapere effettivamente dove questi cesilia si trovano quindi è molto utile questa mappa interattiva perché siete voi a filtrare tra le varie opzioni il materiale che sia un fiore che sia un tipo di roccia eccetera eccetera che vi serve per individuarlo sulla mappa e ultima sezione all'interno di questa sezione gameplay dell'applicazione oil lab è la sezione travelers diary questa è una sorta di diario del viaggiatore cioè il nostro che tiene il conto di tutte le prime agents che avete guadagnato durante quel mese e vi dice anche i metodi che avete utilizzato per guadagnarle con più successo in un grafico a torta ve li suddivide in esplorazione eventi eccetera eccetera così vi permette anche di tracciare i metodi più efficaci con cui avete ottenuto primogenze nel mese precedente in quello prima ancora eccetera eccetera quindi scatricatela seguitemi che mi chiamo manage maoi anche lì e utilizzatela che è veramente fatta bene e molto molto congeniale anche questo video della serie cosa fare non fare su ganshin impact sta svolgendo al termine ma prima di salutarvi vi lascio una piccola tip che però è un mio parere personale motivo per il quale non l'ho messo in uno dei commenti ufficiali precedenti ma è un piccolo consiglio che vi do io io ho sbagliato in primis e quindi spero che voi non farete il mio stesso errore ma anche se lo fate non importa però io mi sento dirvelo quando iniziate a giocare ci sarà un banner particolare il banner di noel che vi costerà soltanto 8 fate per fare 10 pool il che è un guadagno perché con 8 fate una multi da 10 e potete farlo due volte quindi un totale di 16 fate per due molti da 10 per un totale di 20 pool quello che vi consiglio io è che se riuscite evitate di pullare in quel banner perché comunque è un banner a virgolette un po' riduttivo rispetto a quello permanente quindi se avete delle fette io vi consiglio di pullarle nel banner permanente e non in quello di noel tuttavia anche io in primis se lo fate quindi se lo fate se lo avete intenzione di farlo va benissimo è solo un mio parere personale che volevo darvi perché comunque sono qui per darvi un consiglio e questa è la mia opinione ad ogni modo ragazzi io vi ringrazio tantissimo per essere arrivati a questo punto del video è stato molto bello fare una seconda parte di cosa fare non fare su genshin impact lasciatemi dei commenti qui sotto perché se avete altri consigli da dare ai new players io li tradurrò in un prossimo video quindi mi raccomando commentate fatemi sapere se vi è piaciuto il video con un pollicino iscrivetevi al canale attivate la campanella noi ci vediamo in un prossimo video sempre a tema genshin o di un qualsiasi altro gioco che porterò qui sul canale e vi ricordo di seguirmi anche su altri social in particolare su twitch dove mi trovate in live dal lunedì al venerdì escluso il giovedì eppure anche la domenica salvo e cambi di programma che però pubblico sempre nella sezione community o nel server discord quindi vi raccomando non mancate ragazzi nel live noi ci vediamo in un prossimo video e vi auguro una buona giornata ciao o un o o o o o Grazie a tutti.